Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo undicesimo appuntamento dei Conti non tornano, un programma nato dalla collaborazione tra Comedonchisciotte.org, l'associazione MMT Italia e l'associazione La Genesi che ringraziamo per la messa in onda. Il nostro programma, come sapete, è un programma incentrato sui temi della macroeconomia e a condurlo insieme a me c'è la mia collega di redazione, Sonia Milone. Ciao Sonia, buongiorno. Ciao Massimo, allora oggi è con noi Filippo Abate, presidente della MMT Italia. Ciao Filippo, benvenuto. Ciao Sonia, bentrovata e saluta anche Massimo. Ciao. Ciao Filippo, è un piacere rivederti. Come sempre iniziamo lanciando il nostro servizio di puntata. Perché i trattati economici europei sono in contrasto con la nostra Costituzione? Nel suo libro lei come è arrivato a queste conclusioni? Io ho fatto una ricostruzione storica, se non essenzialmente. Cioè mi sono posto nell'ottica retrospettiva cosa avrebbero pensato i nostri costituenti vedendo oggi gli effetti e i contenuti dei trattati europei che si susseguono negli ultimi decenni e che possono essere riassunti nella formula il vincolo esterno. Cioè il vincolo esterno rispetto alla capacità italiana di governare la propria società, di governare se stessi. Per cui a un certo punto misteriosamente si afferma l'idea che gli italiani non sono in grado di farlo e hanno bisogno che qualcosa li limiti con forza, con autorità a livello sovranazionale e abbia questa funzione didattica, cioè ci insegni a vivere e a emendare le nostre colpe. Però è una cosa un po' contraddittoria perché la nostra Costituzione aveva segnato un percorso che poi era stato, diciamo, pur con alterne fortune rispettato, in cui l'Italia invece se l'era cavata benissimo. L'Italia era un paese industriale fra i più vivaci, fra i più forti del panorama mondiale ed europeo sicuramente, quindi non è ben comprensibile intuitivamente perché questo modello costituzionale che era basato sull'intervento dello Stato dell'economia, era basato sulla considerazione dei diritti sociali, cioè sul welfare. Questo modello sia stato considerato inaccettabile. Qual è lo spirito dei trattati economici europei? I trattati invece comportano che viene prima smantellato l'intervento a un primo livello, l'intervento dello Stato nell'economia e successivamente attraverso la moneta unica e i vincoli fiscali che si accompagnano alla moneta unica conduce all'effetto di smantellare lo stesso intervento dello Stato sociale, cioè i diritti del welfare. Questo tipo di visione, forte competizione, stabilità dei prezzi, banca centrale indipendente che non può intervenire sul debito statale, è praticamente un sistema generalizzato che prende piede in tutto l'Occidente, diciamo che parte con la liberalizzazione dei capitali, con l'affermarsi delle teorie monetariste. In Europa trova una metodologia particolare di affermazione che è proprio quella dei trattati europei. In questa puntata, Filippo, parleremo dell'incompatibilità tra il modello economico della nostra Costituzione e quello derivante dall'applicazione dei trattati europei. Spiegaci tutto. Allora, il professor Luciano Barra Caracciolo in due minuti e mezzo del servizio d'apertura ha sintetizzato e ha toccato quelli che sono i punti che noi oggi andremo maggiormente a declinare e quindi effettivamente andiamo ad evidenziare quelli che sono gli elementi sostanziali di incompatibilità tra il modello socio-economico costituzionale e quello che insito è descritto nei trattati europei. La faremo molto semplice, infatti per farla molto semplice indichiamo già il punto di partenza. Il punto di partenza per delineare quelli che sono gli aspetti più importanti di incompatibilità è nostro famoso e importante articolo 3 della nostra Costituzione. In particolare il secondo comma dell'articolo 3 di cui abbiamo già discusso nelle puntate precedenti presenta una veste innovativa che risulta particolarmente attuale oggi. Ce lo ricordiamo, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, questo è il punto di partenza. Nel momento in cui andiamo a leggere ma andiamo a declinare il significato di queste parole, noi ci accorgiamo immediatamente che l'intervento dello Stato in campo economico non è un'opzione, non è una facoltà, bensì è un obbligo che i nostri padri costituenti hanno dato ai legislatori futuri, cioè chi faceva le leggi, chi avrebbe fatto le leggi, aveva il compito di legiferare in modo tale che tutti gli ostacoli di ordine economica e sociale fossero rimossi. Quindi questo è il primo elemento da cui partiamo. Un altro elemento da cui partiamo per evidenziare l'incompatibilità del modello economico Costituzione-Trattati, l'andiamo a riprendere nell'articolo 41 della nostra Costituzione, in particolare il terzo comma. Il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione recita che la legge determina i programmi controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata, quindi indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali. Quindi si evince che il primo elemento fondante del modello socio-economico che hanno ideato i nostri padri costituenti è l'intervento dello Stato nell'economia. Bene, questa visione che hanno lasciato come testamento i nostri padri costituenti dell'intervento dello Stato nell'economia è totalmente incompatibile con quella insita nei trattati europei, i quali trattati delineano un modello socio-economico totalmente opposto. E il primo punto da cui partono questi trattati è proprio la negazione di quel potere di intervento dello Stato nell'economia. Cosa ci porta a dire questo? Che negano l'intervento dello Stato nell'economia? Beh, ce lo porta a dire la lettura di alcuni articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare l'articolo 107 ci ricorda che sono incompatibili con il mercato interno qualsiasi tipo di aiuto di Stato, cioè tutti quegli aiuti che favoriscono alcune imprese mettono in difficoltà il principio fondante del trattato europeo che è quello della libera concorrenza. Questo è l'articolo 107. Nell'articolo 108, secondo comma del trattato di Lisbona si rileva che qualora la Commissione si accorga che una normativa interna dell'ordinamento italiano dovesse confliggere o dovesse potenzialmente limitare il principio della libera concorrenza, la Commissione è tenuta a sollecitare gli Stati membri a modificare quello che è la normativa interna che regola i mercati, perché confligge con il principio della libera concorrenza. Quindi secondo i trattati dell'Unione Europea allo Stato, qualsiasi Stato europeo che appartenga all'Unione Europea non può intervenire per regolamentare il proprio mercato interno. Quindi da una parte c'è l'intervento dello Stato nell'economia sancito dalla Costituzione negli articoli a cui ho accennato prima, dall'altro c'è il divieto da parte dei trattati europei nei confronti dello Stato di intervenire nell'economia. Più incompatibile di questo? Infatti, assolutamente. Filippo, diciamo che noi anche nelle puntate precedenti abbiamo ripercorso un po' la storia dell'Unione Europea, quindi abbiamo individuato alcuni passaggi fondamentali, però in questa puntata in cui vogliamo concentrarci sulle incompatibilità che in nero su bianco poi sono scritte da un lato nella Costituzione e dall'altra parte invece ovviamente nei trattati dell'Unione Europea, i trattati fondativi dell'Unione Europea, ti chiedo a questo punto se secondo te il primo tassello forse fondamentale di questa chiara, netta incompatibilità può essere l'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht da cui poi è uscito fuori la negazione di quel potere di esercitare la propria solidarietà monetaria. Assolutamente sì Massimo, assolutamente sì, ha individuato proprio il momento in cui si è cambiato proprio l'idea stessa dell'Unione Europea. Il trattato di Maastricht che è stato firmato il 7 febbraio del 92 ed è entrato in vigore il primo novembre del 93 crea l'Unione Economica Monetaria. Allora l'Unione Economica Monetaria stabilisce i parametri economici e di bilancio che sono necessari per entrare a far parte dell'Unione Europea. Questi parametri sono il 3% deficit PIL, cioè gli Stati non potevano fare un deficit al di sopra del 3% rispetto al PIL, così come il rapporto debito PIL non doveva essere superiore al 60%. Questi sono dei limiti quantitativi previsti dal trattato di Maastricht. Il discorso della solidarietà monetaria la ritroviamo proprio nella Costituzione dell'Unione Economica Monetaria che è stata costituita, è stata formata in più fasi, è stato dato alla luce prima l'Istituto Monetario Europeo e poi nel 1999 è stata creata la Banca Centrale Europea a cui è stato affidato l'esclusivo potere di emettere la moneta unica, quindi qui c'è stata la cessione della nostra solidarietà monetaria, quindi il punto iniziale è proprio questo. Con la Costituzione nel 1999 della Banca Centrale Europea abbiamo perso totalmente la nostra solidarietà monetaria. Successivamente poi, con la ratifica dei trattati come il fiscal compact, l'Italia, oltre ad aver già perso la solidarietà monetaria, si sottopone a dei vincoli di bilancio più stringenti, perché accennavo prima al rapporto d'effici di PIL e del 3%, il fiscal compact va ad istituire, introdurre quello che è il cosiddetto pareggio di bilancio. Quindi con il fiscal compact, oltre ad aver perso la solidarietà monetaria prima, ci stiamo limitando ulteriormente l'intervento in campo di politica fiscale, quindi si può dire che con la ratifica del trattato di Mastit, con il fiscal compact, il pareggio di bilancio in costituzione, la cessione di sovranità monetaria, sono tutti elementi che impediscono l'attuazione del modello socio-economico costituzionale, impediscono l'intervento dello Stato nell'economia, impedisce allo Stato di poter intervenire facendo politiche keynesiane, quindi di espansione finalizzate alla piena occupazione. Cioè in buona sostanza lo Stato oggi non ha gli strumenti per realizzare il dettato costituzionale dell'articolo 3. Filippo, fra i temi più importanti c'è sicuramente il lavoro che abbiamo già affrontato con Massimo Russo nella puntata 7 e che invito tutti ad andare a rivedere. Mi chiedo allora, quale valore danno i trattati europei al lavoro e quale valore invece gli dà la nostra Costituzione? Guarda Sonia, il tema lavoro è un tema centrale e fondamentale perché noi tutti sappiamo che la nostra Costituzione si basa sul principio lavoristico, lavoro inteso come strumento attraverso cui potrei realizzare il pieno sviluppo della persona umana, quindi il lavoro è lo strumento per la realizzazione della persona umana. L'incompatibilità è molto chiara, leggendo i trattati e leggendo la Costituzione l'incompatibilità tra la visione del lavoro espresso nei trattati e quella del modello costituzionale, si evince leggendo gli articoli stessi. Ora, in merito al ruolo fondamentale del lavoro sancito nella nostra Costituzione italiana, basta ricordare che questo concetto viene ribadito sia nell'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, che negli articoli 4 e 36, 4 per quanto riguarda l'obiettivo della piena occupazione e 36 per quanto riguarda una remunerazione dignitosa per sé e per la sua famiglia al lavoratore in modo tale che possa campare tranquillamente. Quindi il lavoro è il principio fondante, lo spirito della nostra Costituzione. Voglio ricordare che durante il dibattito dell'Assemblea Costituente fu proprio il socialista Lelio Basso ad affermare l'importanza che doveva essere esplicitato in Costituzione il diritto al lavoro è l'obiettivo della piena occupazione. In questo modo Lelio Basso chiarì anche in modo molto lampante, magari Giulio se mandi il primo contenuto lo vediamo, che chiarisce, Lelio Basso chiarì il collegamento tra la realizzazione del diritto al lavoro e l'attuazione della democrazia costituzionale. Meglio ancora, se non veniva realizzato il diritto al lavoro la democrazia costituzionale non poteva essere realizzata. Leggiamo alcune parole di Lelio Basso. Certo non è oggi vero che la democrazia italiana, che la Repubblica italiana sia in grado di garantire a tutti il lavoro. In quell'epoca non potevano avere la presunzione di garantire il lavoro perché venivamo da una seconda guerra mondiale a un paese distrutto. Oggi non siamo in grado di garantire a tutti un salario adeguato alle proprie esigenze familiari, dice Lelio Basso, ma il senso profondo di questi articoli, e si riferisce all'articolo 4 e 36, sono il senso profondo di questi articoli nell'armonia complessa della Costituzione dove tutto ha un significato e dove ogni parte si integra e quindi finché questi articoli non saranno veri non sarà vero il resto, finché non sarà realizzato il diritto al lavoro non sarà realizzata la democrazia costituzionale. E questo è un elemento che esplicita in modo molto chiaro l'importanza del concetto lavoro. Veniamo invece a quello che è il concetto di lavoro all'interno della filosofia delle regole europee. Il lavoro non è incentrato sulla realizzazione della persona umana, ma su un concetto di lavoro merce. Cosa ci porta a dire che il concetto di lavoro è inteso come lavoro merce all'interno dei trattati europei? Beh, basta leggere uno degli articoli, l'articolo 145 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che parla di occupazione, definisce come compito delle istituzioni quello di adoperarsi per sviluppare una forza lavoro competente, qualificata è adattabile. E i mercati del lavoro devono essere in grado di rispondere a mutamenti economici al fine di realizzare, cosa? Gli obiettivi di cui all'articolo 3 del Trattato. Gli obiettivi di cui all'articolo 3, che poi vedremo dopo nel dettaglio quali sono, ma in particolare ve l'anticipo, l'obiettivo principale è quello della stabilità dei prezzi, il controllo dell'inflazione. Quindi già notiamo nella scrittura del testo del 145 che la parola lavoratore viene sostituita con il concetto forza lavoro. Quindi il lavoro merce, il lavoro inteso come fattore produttivo, come qualsiasi altro fattore produttivo. Per loro il lavoro non è espressione di una persona, ma è espressione di funzioni produttive. Poi, sempre nell'articolo 145, noi possiamo sottolineare il fatto che c'è una subalternità dei concetti di lavoro e dell'occupazione rispetto alle vere priorità. Accennavo prima, i mercati devono essere pronti a mutare rispetto al ciclo economico per realizzare gli obiettivi dell'articolo 3, così come la forza lavoro deve essere adattabile. L'articolo 3 ci dice che l'inflazione è l'obiettivo principale. Tant'è vero che la Commissione europea ogni anno stabilisce per ogni Stato che partecipa all'Unione europea il tasso di disoccupazione strutturale. Cioè, dice ad ogni Stato, tu quest'anno non puoi far scendere la tua disoccupazione al di sotto di un certo limite, altrimenti potrebbe essere messo a rischio l'obiettivo principale che è quello della stabilità dei prezzi. Quindi viene subordinata l'occupazione a questo principio fondamentale per i trattati europei che è il controllo dell'inflazione. Quindi la finalità dichiarata nel trattato sul funzionamento europeo è totalmente incompatibile con quello che viene dichiarato nella nostra Costituzione che presume l'obiettivo principale è quello della piena occupazione. La piena occupazione che ovviamente è in contrasto totalmente con il principio della disoccupazione strutturale che deve essere rispettata. Assolutamente Filippo, direi che sia stato chiarissimo, però so che voi di MMT avete preparato proprio una slide apposita in cui c'è un chiaro confronto sui principi cardine socio-economici della nostra Costituzione e invece quelli dei trattati europei. Allora a questo punto direi anche per fissarli meglio nella mente dei nostri spettatori, vediamoli insieme. Sì, il contenuto o due. Il modello economico costituzionale, l'abbiamo detto, è stato intuito, si intuisce, però per semplificare come giustamente dici te e sintetizzare, sono due, centralità del lavoro e l'intervento dello Stato nell'economia. Cioè viene creato un modello economico di stampo chenesiano che non considera il lavoro una merce, un fattore produttivo come qualsiasi altro. Viceversa, il modello economico che deriva dai trattati europei si fonda su questi quattro cardini. Lo Stato non deve intervenire, quindi ruolo marginale dello Stato, deve esserci una forte concorrenza, l'obiettivo principale è il controllo dell'inflazione e il punto fondamentale dell'indipendenza della Banca Centrale. Cioè la Banca Centrale non può prendere consigli o ordini da qualsiasi Stato membro perché è un organo super partes, non controllato da un processo democratico e deve essere indipendente. Viene a definirsi quello che viene detto in gergo liberismo regolato o ordoliberismo, cioè l'intervento dello Stato è consentito esclusivamente per fare in modo che vengano rispettate le regole dei trattati europei. Questo è l'ordoliberismo. L'intervento dello Stato nell'economia nei trattati europei, quali sono le regole che impediscono lo Stato di intervenire nell'economia? L'abbiamo accennato prima, le regole quantitative, le regole del gioco chiamate a limitare l'intervento dello Stato nell'economia sono il limite di spesa del deficit del 3% che poi è stato ulteriormente aggravato con l'inserimento nella nostra Costituzione del pareggio di bilancio, quindi non c'è neanche possibilità di spese in più perché abbiamo costituzionalizzato il pareggio di bilancio, quindi questo limita fortemente l'intervento dello Stato nell'economia, così come il rapporto debito PIL, che non può essere superato il 60%, noi sappiamo che abbiamo sforato tantissimo, però hanno un occhio di riguardo su questo aspetto, quindi questi parametri oggettivi sono le regole che impediscono lo Stato di intervenire nell'economia. queste regole ovviamente sono un palese rifiuto a quello che dicevo prima, un palese rifiuto a quelle che possono essere delle politiche economiche di stampo espansivo, di stampo keynesiano, perché? Perché dai trattari europei questo tipo di intervento, questi tipi di politiche economiche sono ritenute, o meglio ancora, non dai trattari europei, dai signori che gestiscono dalla Commissione europea piuttosto che dai nostri rappresentanti in Europa, questo tipo di politica economica sono ritenute produttive nel lungo periodo di inflazione, per cui va in contrasto con l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi e quindi non possono essere fatto. In buona sostanza Maastricht, il patto di stabilità e crescita del 1997, il Trattato di Lisbona, i Fiscal Compact hanno capovolto il primato costituzionale del rapporto tra politica ed economia, cioè oggi la politica è subordinata all'economia, non può fare nulla per poter diffondere il benessere e adottare un modello economico che possa realizzare il pieno sviluppo della persona umana. Se poi vogliamo accennavi ai valori fondanti su cui si basa il modello socio-economico della nostra Costituzione, ne possiamo individuare tre, che sono molto chiari i valori su cui si basa il modello socio-economico costituzionale. Innanzitutto sulla solidarietà, il valore della solidarietà sociale, l'uguaglianza e la tutela del lavoro, questi sono i tre valori insiti nel modello socio-economico costituzionale. Ovviamente dove andiamo a prendere questi tre valori? Nella Costituzione. Solidarietà sociale, l'articolo 2 della nostra Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede al cittadino l'adempimento di interrogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi la solidarietà ce l'abbiamo nell'articolo 2. L'uguaglianza dove ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo nell'articolo 3, dove la prima parte è l'uguaglianza sostanziale, dove viene detto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di senso, razza, lingua e religione. Ok, l'uguaglianza formale. L'uguaglianza sostanziale è contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 che abbiamo ampiamente discusso in precedenza. Tutela del lavoro. Bene, la tutela del lavoro ribadiamo l'articolo 1, l'articolo 4 dove viene scritto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, l'articolo 36 dove la Costituzione ci dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. quindi questi sono i tre valori del nostro modello socio-economico costituzionale. Nei trattati, andiamo a vedere, nei trattati, nei leggeri trattati dell'Unione Europea quali sono i valori? Allora, al posto della solidarietà noi troviamo l'egoismo sociale e poi vediamo quali sono gli articoli da cui emerge questa mia affermazione e considerazione. Al posto dell'uguaglianza viene imposta la legge del più forte, al posto della tutela del lavoro e dei lavoratori viene imposta la tutela del capitale piuttosto che di chi campa di rendita, i rentieri, cioè del capitale finanziario. Quindi sono totalmente ribattati. Quali sono gli articoli da cui si può desumere le affermazioni che ho fatto io? Filippo, direi una gran bella differenza, ma entriamo un po' più nel dettaglio di questi termini perché a me ha colpito molto quando avevi usato la parola egoismo sociale e poi cosa si intende per tutela dei rentiers? Ok, aiutiamoci con il contenuto numero 3 perché come accennavo prima queste considerazioni sono estratte da articoli del Trattato di Lisbona. In particolare per quanto riguarda l'egoismo sociale è sufficiente andare a leggere quelli che sono gli articoli 123, 24 e 25 del Trattato di Lisbona. Questi articoli vietano categoricamente ogni forma di aiuto, scoperto di conto, facilitazione creditizia rispettivamente dell'ABC agli Stati. Cioè gli Stati non possono essere finanziati dalla Banca Centrale Europea. L'accesso al credito è agevolato soltanto per gli istituti di credito di natura privata, cioè le banche commerciali e le banche di investimento. Quindi siamo di fronte ad uno, in particolare voglio porre l'attenzione su un comma dell'articolo 125, l'ultimo evidenziato, dove viene scritto che gli Stati membri non possono, non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico, di imprese pubbliche e di altro Stato membro. Così come il capo verso, il primo comma, l'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali. Quindi non c'è solidarietà, c'è egoismo sociale. Siamo di fronte ad un'unione di Stati dove ciascuno Stato nei momenti di difficoltà, quelli più bui, deve cavarsela da solo. Nessuno ti viene in aiuto, né uno Stato né tantomeno la Banca Centrale Europea. Vi sembra che quest'Unione Europea sia basata sulla solidarietà? Ovviamente è una domanda retorica la mia. Se poi passiamo al contenuto numero 4, andiamo a vedere da dove si evince la differenza, cioè il cambio di passo tra l'uguaglianza, il valore dell'uguaglianza è la legge del più forte. Qui lo ritroviamo nell'articolo 3 del Trattato di Lisbona, che è il cuore pulsante, come accennavo prima, dell'intera architettura dell'Unione Europea. Il comma 3 dell'articolo 3 sta scritto, afferma che l'Unione Europea si regge su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. È una competizione economica, ovviamente vince chi è più forte, quindi sarà, lo vediamo anche nella nostra vita quotidiana, che le piccole e medie aziende, le micro aziende italiane stanno soffrendo e stanno fallendo a favore di quelle che sono le multinazionali, piuttosto che i grandi conglomerati industriali che hanno la meglio, perché sono più grandi e più forti. Quindi è la legge del più forte. Quindi la forte competitività è la continuazione dell'ostilità individuale, non certamente con mezzi militari, ma con mezzi economici. E la concorrenza è un valore supremo nella filosofia neoliberista di cui è intrisa tutta la struttura dell'Unione Europea. Quindi i perdenti della competizione locale sono paradossalmente quelli più piccoli, quindi è la legge del più forte. Viceversa, continuando, andiamo nel contenuto numero 5, dove vediamo quali sono gli elementi normativi che ci portano ad affermare che il modello socio-economico dell'Unione Europea mira a tutelare i rentieri, cioè chi campa di rendita. Bene, l'articolo 119 è in particolare il secondo comma, recita l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi, fatto salvo questo obiettivo di sostenere le politiche economiche generali dell'Unione. Quindi l'obiettivo principale che abbiamo già visto nell'articolo 3, che è la stabilità dei prezzi, viene ribatito ulteriormente con una certa ossessione in tutti gli articoli, in diversi articoli dei trattati, che fanno in modo che questo tipo di obiettivo sia l'obiettivo unico e principale che sopravanza e schiaccia tutti gli altri diritti e tutti gli altri obiettivi, infatti si legge l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi, fatto salvo questo obiettivo. Cosa significa? Prima deve essere realizzato l'obiettivo della stabilità dei prezzi e poi eventualmente ci sono dei margini di intervento, si può pensare ai lavoratori, alla piena occupazione, allo Stato sociale. Quindi la domanda che ci poniamo è perché tutta questa ossessione del controllo dell'inflazione? La risposta è molto semplice, chi ha più soldi, chi ha capitali enormi ha paura ovviamente che il proprio patrimonio possa essere depreciato e perdere di valore. Quindi la finalità della tutela del controllo dell'inflazione mira a soddisfare l'interesse di chi ha tanti capitali finanziari che non vogliono veressi erodere il patrimonio stesso, quindi i rentieri, chi campa di rendita, non chi campa del proprio lavoro, non l'economia reale. Quindi i valori della nostra Costituzione sono totalmente ribaltati nei trattati dell'Unione Europea. Allora a questo punto e chiudo la risposta, spero di essere stato esaustivo, bisogna domandarci una cosa, quanto è compatibile il tasso di disoccupazione strutturale che la Commissione Europea ogni anno stabilisce per ogni Stato, con l'obiettivo della piena occupazione? Quanto è compatibile il diritto sociale della tutela della salute piuttosto che degli indigenti con gli elementi di controllo della spesa pubblica piuttosto che del pareggio di bilancio in Costituzione? Ovviamente sono domande retoriche che lancio lì per una riflessione su tutti. Ebbè certo, diciamo che noi con questo programma stiamo cercando di dare risposte proprio a queste domande, stiamo cercando di stillare il dubbio, stiamo cercando di far sì che le persone comprendano come c'è una totale discrepanza tra i valori della nostra Costituzione e invece quello che è scritto nei trattati europei, che poi tu giustamente hai sottolineato, i trattati dell'Unione Europea non fanno altro che garantire, possiamo dire banalmente, una vita più semplice a chi ha un patrimonio ampio da dover tutelare, invece chi vive con il proprio lavoro e quindi con quella che è l'economia reale, come dicevi tu, invece in realtà deve ogni giorno spaccarsi la schiena senza avere nessuna certezza. Allora io a questo punto ti chiedo di spendere due parole in più per spiegarci bene questa dottrina liberista di cui oramai siamo intrisi e che viene quasi data per scontato ormai da tutti i partiti nazionali nonché da tutto diciamo l'Occidente, ecco spieghiamola bene per farla capire anche ai nostri spettatori. Ecco per essere sintetico e semplice il liberismo è una dottrina, è una politica economica che ritiene che la libera iniziativa economica dell'individuo non deve essere condizionata dallo Stato, quindi non condizionata dallo Stato, sia la condizione migliore per il funzionamento corretto del mercato, cioè sia la condizione affinché il benessere possa essere diffuso tra tutta la popolazione e tutti i cittadini. Quindi la libera iniziativa non deve essere subordinata o condizionata dallo Stato, in tal modo abbiamo piena fiducia del mercato che sa come gestire, come distribuire equamente le risorse a tutti gli operatori economici. Una favola in pratica. Il liberismo è considerato da molti come l'applicazione in ambito economico delle idee liberali sulla base di un concetto che è questo, democrazia vuol dire libertà economica, se ho libertà economica siamo in democrazia. Questo concetto è stato coniato da un filosofo economista austriaco che è Friedrich von Hayek, è un pensatore liberale, liberista, totalmente contro l'intervento dell'ostare nell'economia. E se Giulio mi agevola il contenuto numero 6, vediamo quello che pensava von Hayek nello scrivere e nel sostenere il liberismo è la democrazia uguale a libertà economica. Chiunque abbia l'esclusivo controllo sui mezzi deve anche determinare quali fini debbono essere realizzati, quali valori debbono venire considerati come superiori o inferiori. In breve cosa gli uomini devono credere e a cosa devono aspirare. Questo era il pensiero fondante di tutta la dottrina e di tutta la filosofia di Friedrich von Hayek. Ora, il sistema liberale, forse non tutti sanno che durante l'assemblea costituente nel dover decidere qual era il modello socio-economico che doveva essere inserita all'interno della Costituzione, ci fu una discussione molto forte, molto approfondita proprio sul rifiutare totalmente la teoria liberista del mercato. Perché? Perché i nostri padri costituenti l'avevano già conosciuta e pavettavano che una delle cause della Seconda Guerra Mondiale fu proprio il modello liberista liberale della società in termini economici. Quindi un modello liberale. Tra i vari interventi riportati in assemblea costituente, lo leggiamo nel contenuto 7, sono molto importanti le parole di Giorgio Lapira, il quale si poneva una domanda che era essenzialmente questa, ma data l'attuale situazione di fatto nella quale esistono larghe crisi periodiche di disoccupazione, mentre non è attuato un'effettiva e consapevole partecipazione della massa lavoratrice, si stava riferendo alle condizioni economiche e sociali del tempo. Giorgio Lapira si pone questa domanda, sorge il problema, l'ordinamento economico liberale che ha creato questi due fatti ha una virtù interna tale da poterli superare? Si poneva la domanda, quello che ha creato questo tipo di disastro? Il modello che ha creato lo può, può, ha gli anticorpi per poterlo superare? Ovviamente la risposta fu no e quindi da qui la domanda, qual è lo strumento economico nuovo che bisogna costruire? Quindi respinto l'ordinamento liberale, occorre creare una struttura economica nuova, quindi stavano lavorando per costruire la cosiddetta terza via, l'intervento dello stato dell'economia, l'economia mista. Il ripudio del sistema liberale viene anche confermato dall'onorevole Aldo Moro, il contenuto numero 8, che delinea ulteriormente le caratteristiche del nuovo modello. Qui stiamo vedendo come è stato costruito il nostro modello economico, quali sono stati i dibattiti, le osservazioni, quali sono stati i contributi dei nostri vari costituenti. Aldo Moro diceva che è effettivamente insostenibile la concezione liberale in materia economica, in quanto vi è necessità di un controllo in funzione dell'ordinamento più completo dell'economia mondiale anche e soprattutto per raggiungere il maggior benessere possibile. Quindi rifiuto del sistema liberale. Quando si dice controllo dell'economia, quindi qui è l'attenzione, non stiamo parlando di un'economia pianificata a modo sovietico. Quando si dice controllo dell'economia non si intende però che lo Stato debba essere gestore di tutte le attività economiche, ma ci si riferisce allo Stato nella complessità dei suoi poteri e quindi in grado, in gran parte, allo Stato che non esclude iniziative individuali, ma alle cordie e alle discipline. Questa è la nascita dell'articolo 41 della nostra Costituzione. Quindi la necessità di regolare l'attività economica era condivisa dalle maggiori forze dell'Assemblea Costituente. Filippo, siccome stiamo andando verso la fine della puntata, attraverso le slide, facendoci aiutare dalle slide, fissiamo i punti cardine di questa incompatibilità. Vediamo il contenuto 9. Volentieri. Allora, il contenuto 9, l'articolo 47, il 47 ci dice tutela del risparmio. Il Trattato dell'Unione Europea ci dice distruzione del risparmio con la direttiva del Belin. Il contenuto 10, ci dice l'articolo 41, lo Stato indirizza l'economia per tutelare la società. L'articolo 116, la Commissione impone allo Stato di tutelare il mercato. L'11, l'articolo 3, l'obiettivo, l'abbiamo visto approfondito, è lo sviluppo e tutela della persona umana. Il Trattato dei Massit ci dice che l'obiettivo e lo sviluppo è quello dei capitali, la tutela dei ventieri. Il contenuto 12, il lavoratore è un essere umano, l'articolo 36 che ci dice che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, equa per sé e per la sua famiglia. Il 145 che abbiamo visto anche in trasmissione ci dice che il lavoratore è una merce. Sintesi dell'incompatibilità, molto semplice da comprendere da fonti ufficiali. Direi un'incompatibilità palesissima, chiarissima, quindi fondamentale questa puntata per dare un senso anche a tutta la nostra trasmissione, al nostro percorso. Filippo, siamo nei minuti finali, vuoi aggiungere qualcosa? Velocemente. Alla luce di quello che abbiamo visto oggi in questa puntata, la semplice domanda a cui vorrei che tutti gli italiani dessero una risposta è questa qui. Nel mio Paese voglio che continua ad essere applicato il modello socio-economico dei trattati europei che ci ha portato in questa situazione? O preferisco che venga realizzato il modello che i nostri pali costituenti ci hanno lasciato in eredità nella nostra Costituzione? Ovviamente l'Associazione M&MT Italia questa scelta l'ha già fatta, attuare la Costituzione italiana. Assolutamente Filippo, infatti è importante fare tutti pressione affinché questo modello venga rivalutato nel dibattito parlamentare, ma ciò è possibile solo se le persone si attivino, tornino ad essere quegli animali politici come rientra nella nostra tradizione. Infatti è importante prendere coscienza di cosa l'Europa ci ha tolto e cosa continua a toglierci in favore dei mercati, mandando letteralmente a rotoli il nostro Paese, perché questo sta accadendo. Esatto Sonia, esatto. Vabbè aggiungo che ovviamente anche noi di Come Don Quixote la nostra scelta l'abbiamo fatta e la stiamo facendo anche grazie a M&MT e questo programma e quindi il lavoro che portiamo avanti è fondamentale. Filippo grazie di essere stato nostro ospite quest'oggi. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Ricordo ovviamente ai nostri spettatori che le puntate possono essere riviste anche sui canali Rumble e YouTube di Come Don Quixote e sul sito di M&MT Italia e inoltre se avete dubbi o domande potete scrivere a M&MT Italia chiocciola M&MT Italia punto info e stiamo preparando una puntata conclusiva per rispondere a tutti i vostri dubbi. Grazie mille.